Questo programma è offerto da Golf Crema Resort, settimanale Il Piccolo, ristorante Il Ridottino, Il Nuovo Torrazzo. Salve a tutti e benvenuti alla quinta puntata del nuovo format White In, una luce accesa sulla società. Oggi tratteremo il tema della Lombardia Film Commission e ne parleremo con due ospiti illustri intervenuti oggi nei nostri studi. Con il dottor Alberto Di Rubba, presidente della Lombardia Film Commission e con il professor Bartolomeo Corsini, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Lombardia. Grazie di essere intervenuti. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a voi. Allora, volevo dire che insomma noi tutti siamo abituati ad andare al cinema, grandi e piccolini, però non tutti sanno che dietro ad una produzione cinematografica c'è una grande realtà territoriale che supporta, coadiuva la produzione cinematografica in senso tecnico, logistico e quant'altro. Ecco, stiamo parlando della Film Commission. Dottor Di Rubba, ci introduce un po' cos'è una Film Commission. Allora, una Film Commission è un ente, diciamo, che poi può essere una fondazione oppure un'associazione, che in sostanza coadiuva o meglio aiuta le produzioni audiovisive, produzioni cinematografiche, a sviluppare i loro progetti e quindi a sviluppare film, spot pubblicitari, documentari, all'interno quindi della regione, di una regione. Nel nostro caso particolare è all'interno della Lombardia ed è per quello che poi tutte le regioni si adoperano affinché possano dare vita a una Film Commission. Nel mio caso, appunto, sono presidente di Lombardia Film Commission, che è una fondazione nata nel 2000 e vede come soci Regione Lombardia, Comune di Milano e Union Camere Lombarda. Lombardia Film Commission, quindi, offre servizi e consulenza alle produzioni cinematografiche che vogliono sviluppare i loro progetti e quindi partiamo da una fase iniziale che è l'attività chiamata di scouting, ovvero quando il progetto è ancora in fase embrionale, ma i produttori fanno visita sul territorio per poter vedere le location che meglio si addicano alle loro esigenze, al loro progetto. Quindi noi diamo consulenza già dalla fase iniziale per accompagnarli a visitare le location e quindi nella nostra regione affinché possiamo dare pubblicità dei luoghi e delle bellezze della regione Lombardia e attrarle quindi produzioni cinematografiche che poi comportano ricadute in senso positivo nel famoso indotto sul territorio, quindi Lombardo, grazie anche alla collaborazione quindi con le maestranze nel sempre settore audiovisivo e quindi anche con altri enti sempre nel settore cinematografico. La ringrazio molto dottor Biruba. Professor Corsini, come opera la Fondazione Sperimentale di Cinematografia? Allora, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è una delle più antiche scuole di cinema del mondo, nasce nel 1935, ha cinque sedi sul territorio nazionale, Roma, Palermo, Torino, Milano e L'Aquila ed ha un compito molto preciso che è quello di formare i giovani talenti nel cinema, per cui parlo di registi, scenografi, fonici, sceneggiatori, costumisti, cioè tutti quelli che collaborano all'impresa cinema e dall'altra parte l'altro impegno importante che ha a livello nazionale è quello di preservare il patrimonio filmico italiano, per cui noi siamo scuola nazionale del cinema, per cui formiamo i talenti del cinema italiano e dall'altra parte preserviamo il cinema, le pellicole, nella Cineteca nazionale che ha sede a Roma e ha sede a Ivrea. Nello specifico parliamo della sede della Lombardia, la sede della Lombardia si occupa del cinema d'impresa, cinema d'impresa che significa documentaristica d'impresa e pubblicità, per cui quel tipo di film che ha una committenza, cioè lei vuole venire da noi perché vuole promuovere la sua televisione e noi le realizziamo uno spot sulla sua televisione, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che l'idea nasce fuori dell'ambito scolastico o comunque di quello che è il regista, il professionista del cinema e i nostri allievi devono saperla traghettare all'interno di un prodotto filmico, per cui devono fare uno storyboard, devono scrivere un concert e devono specialmente nella prima fase confrontarsi con il cliente per riuscire a ottenere un risultato importante e ovviamente condiviso. Questo è il compito della sede Lombardia del centro sperimentale. Per cui il centro sperimentale nella sua figura nazionale è quella scuola che cerca di formare i migliori talenti del cinema, conservare le pellicole e dall'altra parte occuparsi di tutto quello che è il settore cinematografico, che è un settore estremamente importante per l'economia del paese. Difatti il nostro presidente è nominato dal Parlamento, per cui è un'istituzione come potrebbe essere il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, cioè è qualcosa che serve, è stata individuata dal Parlamento, come un elemento essenziale della Costituzione dello Stato italiano. Te ringrazio molto professor Corsini per questa cosa. Ora, dottor Di Rubba, volevo capire come interagite tra di voi, quindi come la Lombardia Film Commission interagisce con il centro sperimentale di cinematografia? Certo. Allora, Lombardia Film Commission, come dicevo poc'anzi, offre servizi e quindi consulenza, ovviamente in campo audiovisivo. Tra i servizi che la Lombardia Film Commission offre, vi sono spazi gratuiti per le produzioni che quindi sono di passaggio o che comunque girano, in questo caso, nel comune di Milano o comune di Limitrofi, offrendo quindi circa 600 metri quadri di spazi dove al loro interno trovano sia dei classici uffici, sia una sala di trucco e parrucco, sia la sartoria e anche attrezzature per il premontaggio e final cut per visionare in sostanza le prime scene che sono girate. Lombardia Film Commission, tra i servizi che offre, è l'ente che semplifica tutte le pratiche, la burocrazia, diciamo, ovvero l'occupazione del suolo pubblico, quindi richiedere permessi al comune, richiedere magari la chiusura di strade, l'intervento dei vigili del fuoco oppure la polizia e quant'altro. Essendo che è un ente, quindi partecipato anche, come ho detto prima, da Regione Lombardia, da Comune di Milano, in sostanza si mette in mezzo, fa da tre d'union, tra le produzioni e quello che le produzioni devono adempiere. E proprio per questo motivo è in stretto contatto quindi con gli enti quali Regione, Comune di Milano, ma anche con tutti gli enti, che fanno parte dell'audiovisivo, in questo caso quindi con la Fondazione Centro Sperimentale del Cinema, dove ci sono anche degli interventi nostri nella formazione e quindi magari anche delle sedute, delle formazioni. siamo in stretto contatto sia, come dicevo, con il Centro Sperimentale, ma anche con altri enti, con la Cineteca, comunque tutto quello che è audiovisivo. E anche per questo che cerchiamo di collaborare e offrire alle produzioni che vengono quindi in Lombardia anche delle proposte per quanto riguarda le maestranze che abbiamo in Lombardia. e quindi tutti gli operatori del mondo cinema, in sostanza. Certo, dottor Di Rubba. Professor Corsini, quali sono i cavalli di battaglia della formazione cinematografica? Allora, intanto le do una brevissima risposta alla sua precedente domanda, la collaborazione con Film Commission. La collaborazione con Film Commission è essenziale. Perché? Perché Film Commission si occupa di, come diceva bene il presidente Di Rubba, di agevolare le produzioni. I nostri allievi, per imparare, devono fare produzione. Per cui, di fatto, i nostri allievi diventano gli assistenti degli assistenti, sostanzialmente, all'interno di produzioni che Lombardia Film Commission riesce ad attrare sul territorio. Questo cosa significa? Significa che noi, per noi, Film Commission diventa un campo di lavoro vero per i nostri allievi, per cui, oltre a fare una, diciamo, una committenza, come vi spiegavo prima, di un cliente, c'è anche poi tutta la parte di produzione che viene agevolata moltissimo dalle produzioni che Film Commission ci segnala, dove noi possiamo dare una mano con i nostri allievi, e, dall'altra parte, i nostri allievi però imparano andando sui set. Per cui questo legame con Film Commission diventa strategico. Strategico perché poi, una volta che i nostri allievi imparano ad andare sul set, le maestranze di cui parlava il dottor Di Rubba prima sono, di fatto, i nostri allievi che hanno finito di fare il corso. Il corso di tre anni. Quali sono i cavalli di battaglia? I cavalli di battaglia, cioè, la finalità della serie Lombardia è quella di creare una figura professionale che, in sintesi, è un realizzatore di progetti video. Cioè, è un regista, senza dubbio, di cinema, ma nello stesso tempo riesce a organizzare una produzione, riesce a parlare col cliente, riesce a organizzare la distribuzione del suo film, per cui riesce a conoscere a 360 gradi quello che è il settore cinematografico, che è un settore molto complesso. È un settore che ha, al suo interno, noi l'abbiamo, come dire, verificato, l'abbiamo anche analizzato e ricercato, circa 58 diversi tipi di professioni. Per cui, questi 58 diversi tipi di professioni servono per realizzare un prodotto filmico. La grande, come dire, novità, ma non è neanche tanto una novità, comunque la grande forza che ha il cinema, il settore cinematografico, è che riesce a coadiuvare su un'idea, per esempio, non so, la realizzazione di un film sul lago di Como, per esempio, tantissime maestranze, in poco tempo, con tante risorse, per cui riesce ad avere una struttura flessibile di impresa, che in questo momento storico è fondamentale. Cioè, noi non creiamo delle strutture statiche, ferme, ma che sono in continuo movimento. Cioè, il cinema ha questa grande qualità che prende, diciamo, le novità dalla società, prende le novità da quello che, insomma dire, dalla turbolenza a cui siamo abituati in questo periodo storico e riesce a trasformarle, a traghettarle, a narrarle. Ecco, questa operazione è un'operazione straordinaria, che può essere tutte le volte rinnovata. E questo fatto che tu possa avere un'impresa che tutte le volte che si mette in campo si rinnova, vuol dire che è sempre disponibile al nuovo e disponibile al futuro. Per noi è fondamentale, perché i nostri allievi devono avere questo tipo di approccio. C'è un problema, bisogna risolverlo. E dal problema noi tiriamo fuori una nuova idea, tiriamo fuori un nuovo filmato, facciamo conoscere un territorio. Con la Film Commission dobbiamo collaborare in forma assolutamente stretta, perché avere una bella location, avere i permessi che ci sono e non c'è il vigile che ti blocca una produzione che magari hai un milione di euro fermo, perché c'è il vigile matto perché vuole fare anche lui e magari la comparsa all'interno del film. Avere, come dire, tutta una scheda di priorità burocratiche risolte per noi è fondamentale. Certo, questo è logico, professor Corsini, perché poi quando uno trova davanti cose ostative, quando uno ha dei capitali da dover investire, certo, che insomma c'è un bel problema che la Lombardia Film Commission fa trovare egregiamente risolto. Sì, e tenga presente che se questa efficienza di Lombardia Film Commission, nostra da parte come scuola, viene poi, come dire, oliata, viene capita, viene compresa, diventa un attrattore economico straordinario, cioè vengono da tutte le parti del mondo per girare qua. Perché? Perché trovano un'accoglienza bella, i nostri territori sono bellissimi, lei pensi che solo la Lombardia ha 10 siti UNESCO, che è la regione con più siti UNESCO in Italia, sono 58 i siti UNESCO in tutta Italia, 10 sono solo in Lombardia. Ma quando uno pensa alla Lombardia, pensa solo all'industria, alla nebbia magari, con lo smog, la fabbrichetta e cose. Non è così. Non è così. Certo, professor Corsini è vero, sono d'accordo con lei. Dottor Di Rubba, a proposito, riprendiamo proprio il discorso che ha fatto adesso il professor Corsini. Sì. Ecco, quali sono proprio i punti di forza della Lombardia Film Commission? Allora, come Lombardia Film Commission devo dire che siamo una struttura molto efficiente. Siamo una struttura efficiente perché nonostante comunque la crisi economica abbia coinvolto anche il settore dell'audiovisivo e anche le nostre risorse si sono ridotte. Siamo una struttura comunque che conta 5 dipendenti, oltre alla mia figura e alla figura comunque di altri due consiglieri, ma siamo molto efficienti. Le do 4 dati per farle capire un attimino come ci comportiamo. Nel 2014 abbiamo assistito circa 200 produzioni direttamente che hanno portato un indotto in Lombardia di circa 9 milioni di euro. Abbiamo incrementato le produzioni assistite nel 2015 arrivando ad assistere quindi 255 produzioni e aumentando anche l'indotto che quindi ricade sul territorio a circa 10 milioni. Quest'anno i dati a ottobre mi fanno pensare che arriveremo ancora ad assistere circa 260 produzioni con un indotto che toccherà circa gli 11 milioni. Tutto questo fatto da 5 dipendenti, fatto in un momento di crisi, fatto in un momento in cui non c'è stato permesso uscire con dei bandi perché molte film commission attraggono anche le produzioni attraverso l'emissione di bandi, ovvero di fondi che vengono messi comunque a disposizione alle produzioni che ovviamente rispecchiano dei requisiti e però sono ovviamente un'ottima arma per attrarre produzione sul territorio. Ecco, noi in questi due anni non siamo riusciti ad emettere dei bandi ma nonostante questo le produzioni assistite si sono incrementate e nonostante questo abbiamo comunque prodotto, abbiamo incrementato anche l'indotto e quindi la ricaduta sul territorio. Quindi devo dire che il principale punto di forza è proprio la struttura e l'organizzazione della struttura stessa. Poi certo, siamo in una regione che offre delle location bellissime non perché sono lombardo ma comunque le location della Lombardia sono spettacolari come diceva il professor Corsini poc'anzi abbiamo dieci siti UNESCO è un dato fondamentale tant'è vero che si pensava addirittura nei prossimi bandi perché ovviamente stiamo lavorando anche noi affinché ci sia un bando in Lombardia Film Commission di legare magari dei requisiti a poter girare delle scene su uno di questi dieci siti UNESCO in modo di mostrare alla gente che ci vede e quindi diffondere l'immagine non solo della Lombardia in generale o delle location che attualmente vanno per la mezz'ora le quali il Castello Sforzesco il Duomo o le mura di Città Vecchia e Alta di Bergamo ma anche dei siti UNESCO che qui le persone oggi non vedono come immagine quindi devo dire che sono molto soddisfatto perché il tutto parte da una struttura estremamente snella Certo Tordiruba così abbiamo modo insomma di far vedere al mondo intero tramite anche questi siti queste località UNESCO abbiamo modo di dimostrare al mondo intero che siamo un'eccellenza nel settore Ecco Professor Corsini le volevo fare una domanda invece inerente a quello che oggi viene definita la crisi perché adesso noi c'è crisi un po' dappertutto lei è dottore in ricerca di marketing anche in comunicazione di impresa quindi le volevo chiedere questa crisi quanto incide effettivamente nel settore cinematografico? Allora la crisi per parlare della crisi bisogna anche fare qualche passo indietro nel senso che la crisi è una crisi di traghettamento di abitudini per quanto riguarda diciamo la gente comune noi tutti che nasce da una riconversione velocissima della parte tecnologica noi fino a poco tempo fa non avevamo il cellulare dove potevamo vedere vedere anche i filmati adesso conversare anche con altra gente stando sempre nello stesso punto per cui c'è una di fatto una rivoluzione tecnologica velocissima che ci fa cambiare le abitudini dall'altra parte questa rivoluzione tecnologica ha fatto morire tutta quella che era la vecchia tradizionale impresa e la Lombardia ha delle aree enormi dismesse noi per il Politecnico di Piliano abbiamo realizzato dieci filmati molto interessanti su aree dismesse nella zona diciamo di Milano che sono incredibili cioè sono vastissime aree lei pensi solo alla zona di Sesto San Giovanni dove c'era prima la Magnetio Marelli adesso c'è la Bicocca perché hanno messo una parte della Bicocca però dove c'era Pirelli cioè sono tutte aree che come dire rispondendo alla sua domanda le fanno capire come c'è stata una velocissima riconversione tecnologica dalla parte industriale questo ha portato unita a una crisi invece più generale non solo italiana ma mondiale di carattere finanziario ha portato a fare che cosa? ha portato da un lato a cercare di individuare quelle che sono delle alternative di lavoro efficaci per far fronte alla crisi il cinema nel settore cinematografico cosa è successo? si è contratto molto il cinema tradizionale quello autoriale per cui i grandi film con grandi budget con truppe enormi eccetera e si è andati a studiare dei sistemi di produzione con meno persone persone più preparate persone che conoscono il mercato persone che riescono a interagire con il cliente e vedi le figure professionali che stiamo preparando noi cioè sono di fatto degli imprenditori del video che hanno ovviamente una passione e una professione altissima nella parte diciamo autoriale per cui regista produttore di grande qualità ma dall'altra parte riescono a costruire un prodotto filmico con dei costi molto ma molto più contenuti rispetto al passato questa è stata la risposta del cinema alla crisi c'è crisi nel cinema perché le risorse sono minori però sono minori le risorse quelle tradizionali quelle che si pensavano un tempo cioè una troupe che costa un sacco di soldi una produzione che costa un milione al giorno ecco quelle cose lì non ci sono più le abbiamo trasformate adesso siamo in questa fase dove stiamo prendendo piede con un nuovo tipo di produzione cinematografica per cui crisi c'è stata crisi c'è ancora ma dobbiamo riuscire a intercettare quelle produzioni cinematografiche sul nostro territorio che ci consentano di rispondere in forma efficiente e tecnologicamente avanzata alle esigenze del mercato perché il cinema è costantemente in espansione l'animazione gli effetti speciali sono tutti lavori dove lei ha un colorist che sono quelli che controllano la pellicola eccetera che prende 5 mila euro al giorno posso fare la colorist ci sono delle professioni nel nostro ambito che sono estremamente richieste per cui non è vero c'è crisi ma c'è crisi di identità sul lavoro poi c'è una crisi generale finanziaria eccetera ma non è quello è che stiamo riconvertendoci a un altro modo di vita e a un altro modo di lavorare vedi anche negli uffici c'è in uffici non c'è più quello che ha la sua stanza con il suo ufficio adesso sono questi open space dove addirittura io l'altro giorno ero in una banca addirittura i dipendenti arrivano con il loro laptop si siedono in un posto e poi il giorno dopo arrivano e si siedono da un'altra parte se libero dove capita perché l'importante è avere il proprio computer io giro con il mio computer non è che capisce è anche un modo di affrontare la crisi certo professor Corsini ringrazio tanto dottor Biruba volevo brevemente per favore i vostri obiettivi come Lombardia Family Commission a breve medio e lungo termine quali sono? allora a brevissimo ci stiamo lanciando sui social ovvero partiremo comunque essere presenti in prima fase fra pochissimo in facebook per continuare poi twitter e soprattutto instagram poi dovremmo comunque spingiamo sempre affinché riusciamo ad ottenere dei fondi per poter pubblicare dei bandi e questo ci permetterebbe maggiore come dicevo prima maggiore attrazione di produzioni a girare sul posto e quindi ricadute maggiori sul territorio lombardo e dopo di che ci stiamo a medio lungo termine vorremmo anche concretizzare in sostanza oggi siamo abbiamo due sedi una sede legale ed una sede operativa la sede legale dove sono presenti quindi i dipendenti a Lombardia Film Commission la sede operativa è invece dove ospitiamo le produzioni ci piacerebbe quindi unificare le due sedi in un'unica sede in modo che possiamo essere molto più presenti con le produzioni e quindi tutto il personale a Lombardia Film Commission possa essere presente e quindi rispondere nell'immediato cosa che comunque già oggi facciamo però maggiore quindi efficienza nei confronti delle produzioni cinematografiche mi riferisco un attimo riprendo un attimino il discorso che faceva prima il professor Corsini in merito alla crisi dell'industria si può far qualcosa per migliorare e per riprendere i ritmi di qualche anno fa qualcosa è stato fatto nel senso che è uscito il nuovo disegno di legge consideri che l'ultima regolamentazione del campo del settore audiovisivo risale al 1949 adesso hanno fatto un disegno di legge che prevede anche delle agevolazioni fiscali che è quello che secondo me potrebbe far ripartire un po' il volano mi auguro solamente che questo si traduca in realtà nel breve tempo e non rimanga solo un manifesto pubblicitario perché anche il nostro settore comunque ha bisogno di una nuova regolamentazione ma soprattutto di quelle agevolazioni che permettano quindi agli investitori di poter investire una certa somma nel cinema e quindi nel settore audiovisivo che peraltro ha un buon ritorno perché solo in Lombardia ogni un euro investito vi è una ricaduta di 6 euro tanto per renderci l'idea e quindi secondo me agevolazioni fiscali permetterebbero di investire maggiormente la ringrazio molto dottor di ruba e sarò talmente gentile che adesso vorrei mandare in onda il contributo audiovisivo sulla Lombardia Field Commission che gentilmente mi ha provveduto a far avere la nostra regia ecco prego la regia di mandare in onda il contributo audiovisivo grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.